da gestire il pallone che ora consente la ripartenza Armstrong in mezzo, attenzione e qui la grande occasione per Lapia primo tiro in porta, quasi gol, incredibile il giocatore con la maglia numero 10, il Macedone Denkov della difesa, uno sbandamento della difesa che vanno in due su un uomo lasciando libero Denkov proprio davanti alla porta qui devo dire bravissimo il portiere Branesco che ha chiuso lo specchio